È un'iniziativa studiata dal sottoscritto e dal capogruppo Teodoro che porremmo in visione all'interno del Consiglio Comunale all'interno del bilancio di previsione che dovrà essere ovviamente approvato nei prossimi mesi in Consiglio Comunale. Destineremo una sorma che andrà dalle 50 alle 100 mila euro, un apposito capitolo di bilancio per le famiglie bisognose. È una prepagata che sarà ovviamente di 50 euro, verrà messa a disposizione ai servizi sociali, per cui la politica esce di scena una volta tanto e sarà data ai servizi sociali e nello specifico agli assistenti sociali che lavorano in maniera implacabile quotidianamente con queste persone bisognose e saranno proprio gli stessi assistenti sociali a decidere a chi dare questa carta o no a seconda delle esigenze particolari della famiglia. Quindi è un ulteriore tassello che va nel senso delle persone bisognose e che va nel senso dell'aiuto della povera gente. Quando si tratta delle persone bisognose e della povera gente la politica deve fare un passo indietro e si deve concentrare definitivamente e per sempre per le esigenze delle persone bisognose. Quando si stava bene, in Italia si stava bene, l'assessorato delle politiche sociali era un assessorato che veniva dato a un partito di minore entità all'interno di una maggioranza. Oggi invece riteniamo che l'assessorato delle politiche sociali sia un assessorato importante e fondamentale per i comuni che si trovano in prima linea ad affrontare le esigenze della povera gente. E devo dire purtroppo a me che in quest'anno e mezzo di legislatura l'assessore non è che abbia fatto modo tanto per creare dei progetti che vado nell'aiuto delle persone.